Molise in zona bianca e il virus arretra da oggi fine del coprifuoco e riaperture si può stare anche al chiuso nei locali prenotazioni per il ponte del 2 giugno intanto i dati confermano il miglioramento generale. Agli ultimi posti per i livelli di assistenza la sanità regionale resta un punto dolente dai dati del ministero della salute i lea al di sotto del coefficiente minimo hanno fallito anche le gestioni dei commissari del governo. Scarabbeo assolto ora mi chiedano scusa con la formula più ampia scagionato dall'accusa di truffa ai danni della regione in tribunale ha detto l'ex assessore non dovevo proprio esserci. La regione chiarisca le intenzioni sull'ex Roxy interpellanza in consiglio regionale per chiedere cosa ne sarà del vecchio hotel in disuso l'immobile a campo basso di proprietà dell'ente che aveva un progetto per la riqualificazione. Domani a Frosolone il memorial Lelio Pallante la bocciofila locale per il tredicesimo anno organizza la gara per ricordare il mai dimenticato editore di Telemolise dopo domani spazio all'evento nazionale trofeo città di Frosolone. Buon pomeriggio un saluto a tutti voi dalla redazione da parte mia buon inizio di settimana eccoci all'edizione delle 14 dunque il giorno tanto atteso è arrivato il primo giorno di zona bianca con le restrizioni che non sono più in vigore dalla mezzanotte soprattutto il coprifuoco ma per quanto riguarda le attività in particolar modo sofferenti durante tutti questi mesi di ordinanze e di privazioni e limitazioni la possibilità di svolgere l'attività anche al chiuso finora era stato possibile somministrare ad esempio le bevande oppure pranzare all'aperto da ora da oggi questo limite non esiste più nel centro di Campobasso per tastare un po' il polso della situazione è collegato in diretta con noi Enzo Luongo da Piazza Pepe lo vedo dal mio monitor allora Enzo dici qual è la situazione nel centro città? Sì Giovanni buongiorno c'è grande voglia di normalità si vedeva che stamattina qui al centro di Campobasso molto movimento, molta gente in giro nonostante la giornata anche se sul calendario c'è scritto 31 maggio non sia prettamente primaverile c'è il sole ma le temperature sono sicuramente ancora rigide partiamo facendovi vedere come è passata la mattinata qui a Campobasso la prima macchinata in zona bianca con le riaperture e poi con i dati della settimana che si è appena conclusa che confermano ancora una volta l'arretramento del virus nella nostra regione questo è il servizio che abbiamo preparato questa mattina la zona bianca è realtà dopo mesi durissimi il Molise da oggi riassapora il ritorno alla normalità da oggi in regione niente più coprifuoco si può circolare liberamente 24 ore su 24 torna il caffè al banco del bar, ristoranti e locali possono servire i loro clienti anche al chiuso salta anche la limitazione delle quattro persone per ogni tavolo anche le piscine in impianti coperti hanno potuto riaprire dopo un lunghissimo stop ripartono i centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, parchi tematici e di divertimento centri culturali o centri ricreativi ripartono le fiere e si possono tenere in presenza corsi di formazione infine tornano le feste anche al chiuso per matrimoni o altre cerimonie civili e religiose ma con l'obbligo del green pass per i partecipanti restano le mascherine e il divieto di assembramento il passaggio in zona bianca coincide con l'ennesima conferma del trend positivo dei dati per i Molise che va avanti ormai da un paio di mesi conferma che arriva dai numeri della settimana appena passata i positivi negli ultimi sette giorni sono stati 35 su 2768 tamponi processati con un tasso di positività all'1,2% nella settimana precedente i contagi erano stati 36 con un tasso all'1,3% gli attualmente positivi in regione oggi restano 133, 67 in meno rispetto al lunedì scorso mentre i ricoverati in ospedale sono passati da 20 a 11, 9 in meno restano solo 2 i pazienti in terapia intensiva, erano 5 lunedì scorso le vittime in una settimana sono state 3, sale a 491 il totale dei decessi in regione dall'inizio della pandemia, mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono stati 99 il totale dei molisani che hanno sconfitto il covid sale a 12.962 anche nella settimana appena trascorsa come nella precedente sono però in leggero calo le somministrazioni dei vaccini negli ultimi sette giorni le dosi inoculate in regione sono state 15.869 mentre nella settimana precedente erano state 16.219 la media giornaliera dei vaccini somministrati è scesa così da 2317 a 2267 Allora questi che avete sentito i dati della settimana appena trascorsa prima nel servizio anche le immagini delle riaperture di questa mattina di questo lento ritorno alla normalità parlavamo nel servizio di ritorno alla normalità non è sicuramente così per la città di Campobasso perché in una situazione di normalità oggi sarebbe partita qui a Campobasso la settimana dei misteri Corpus Domini cade quest'anno il 6 giugno che è domenica prossima quindi senza il covid oggi la città avrebbe cominciato a vivere la sua settimana più intensa con l'arrivo delle bancarelle, le prime iniziative poi il clou nel fine settimana con la sfilata dei misteri, concerti e tutti i festeggiamenti non ci sarà nulla anche quest'anno come già accaduto anche l'anno scorso oggi è 31 maggio, non ci sarà nemmeno l'infiorata qui alle mie spalle nel centro storico della città quindi sì un lento ritorno alla normalità ma che però non è un pieno ritorno alle cose, alla vita che eravamo abituati a fare prima del covid io vi restisco, non ci sono domande, ti restituisco la linea bene così, grazie Enzo, grazie per questo quadro da Campobasso ora ci spostiamo invece all'ingresso del borgo di Termoli dove naturalmente lì anche c'è la zona bianca i ristoratori e i titolari delle attività che hanno a che fare soprattutto con il turismo sono i più soddisfatti in collegamento con noi c'è Andrea Nasillo si respira già un'aria di vacanza Andrea ci sei? Sì Giovanni, buon pomeriggio siamo all'ingresso del centro storico di Termoli il Molise da oggi è in zona bianca siamo stati lungo le strade della città abbiamo ascoltato la voce dei ristoratori, dei baristi e anche di qualche turista sì perché ci sono diversi turisti approfittando anche del ponte del 2 giugno poca la gente in spiaggia a causa del vento vediamo il servizio Aria di libertà, sorrisi e totale relax Termoli accoglie con entusiasmo l'istituzione della zona bianca e i più felici sono ristoratori e baristi è stato un anno difficile la pandemia da Covid ha creato paure, incertezze e precarietà oggi c'è uno spirito diverso niente più coprifuoco e una boccata d'ossigeno si ritorna alla normalità quindi la pandemia finalmente ha avuto il suo percorso e noi fortunatamente possiamo riaprire anche dentro anche se noi ristoratori che abbiamo avuto la possibilità di avere comunque la possibilità di mettere i tavoli all'esterno è stato un maggio abbastanza caldo e quindi abbiamo avuto anche questa fortuna che la clientela si è potuta accomodare fuori all'esterno speriamo che continuiamo così anche se noi fino ad adesso abbiamo lavorato all'esterno e ma da oggi ringraziando il Dio possiamo pure lavorare dentro anche perché sabato sera quando stavamo lavorando si è messa a piovere mi auguro che sia zona bianca per sempre perché adesso con tutti i sacrifici fatti speriamo che questo rimarrà per sempre insomma zona bianca siamo felici tutti non lavorare al banco significa non ingassare perché il banco è quello che ti dà più soldi la seduta è diversa non c'è tanta gente che voleva sedersi era più il veloce prendere il caffè veloce e andare via la prudenza però non deve mancare le passeggiate sono rigeneranti e l'inizio della stagione estiva porta a buon umore il coprifuoco è finito è così ma per i giovani per noi rimane uguale il problema c'era e c'è ancora però per fortuna siamo quasi alla fine vedo moltissimo movimento anche qui in Termoli quindi ci ha risollevato nello spirito e nel morale questo nuovo decreto è una delizia essere in zona bianca speriamo che non succeda come l'anno scorso però che prima eravamo zona bianca e poi si è diventata zona rossa tutto sta che noi ci dobbiamo comportare in una certa maniera con le mascherine e l'istanziamento così si arriverà poi in seguito all'allungamento della zona bianca arriveranno le belle giornate speriamo anche che arriverà gente il turismo, quello e quell'altro perché c'è bisogno di un po' di ripresa dell'economia perché stiamo proprio giù poca la gente in spiaggia nella giornata di oggi ma solo per colpa del vento molti turisti che hanno scelto Termoli per il lungo ponte del 2 giugno una città sempre più apprezzata noi veniamo da Cascia che si trova in Umbria abbiamo deciso di fare questo giro visto che ci hanno dato la possibilità ormai da qualche giorno di rimuoverci un pochino nella massima sicurezza dobbiamo stare tutti molto attenti perché è giusto che ripartiamo ma che ripartiamo bene senza ingombare in errori e usciamo da questo virus era mai stato a Termoli? no, è la prima volta che veniamo e abbiamo da poco messo piedi e devo dire che è veramente carino Giovanni da Termoli è tutto se non ci sono domande ti restituisco la linea grazie Andrea bene così andiamo avanti con il telegiornale perché parliamo dei vaccini che nelle aziende ad oggi in Molise restano solo a pubblicità lo sostiene il sindacato degli operai auto-organizzati secondo cui i dati ufficiali di contagio da Covid sul lavoro e non aggiornati ad oggi senza contare i non denunciati in Molise sono 429 con 7 decessi inoltre prosegue il SOA la cassa integrazione per le aziende è stata erogata soprattutto per le contrazioni di mercato mentre i lavoratori restano numeri costretti a caricarsi sulle spalle le linee del sistema economico, governativo e imprenditoriale con i protocolli di sicurezza che, conclude il sindacato spesso sono rimasti solo sulla carta restiamo in ambito sanitario perché i dati del Ministero della Salute non sono proprio rose e viole per quanto riguarda la nostra regione penultima per ILEA ai livelli minimi di assistenza nonostante anni di commissariamenti sentiamo Enzo Di Gaetano nonostante i commissariamenti del governo centrale i soldi spesi per pagare gente che viene nella nostra regione per aggiustare le cose ma che le finisce di rovinare la sanità molisana continua ad andare sempre peggio infatti il Molise guadagna il fondo della classifica per i livelli essenziali di assistenza della sanità i dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute nella classifica in cui rientrano tutte le regioni e sono relativi al 2019 il punteggio del Molise crolla nuovamente e si tratta dell'unica regione assieme alla Calabria ad avere un risultato così negativo tanto da dimostrare che ai molisani non sono garantite le cure minime nel 2013 il Molise era già sotto il limite con un punteggio di 140 su 160 poi una lenta risalita e nel 2018 si arriva a 180 il che significava che i LEA tre anni fa erano garantiti ora questo nuovo crollo con i dati 2019 che sono scesi a 150 già prima del covid e nell'anno in cui la sanità molisana è stata governata dai commissari esterni Giustini e Grossi la tabella ministeriale parla chiaro nel 2013 140 punti l'uscita dal fondo classifica nel 2016 con 164 fino ai 180 del 2018 in netto peggioramento nel 2019 la qualità dei servizi in Calabria e Molise che con un punteggio pari a 125 e 146 risultano inadembienti secondo la griglia dell'EA ovvero tradotto in parole semplici ai molisani la sanità pubblica non assicura i livelli minimi di assistenza il loro destino è segnato per curarsi adeguatamente fatte le dovute eccezioni grazie a quei medici eroi che ancora resistono i molisani devono andarsene fuori regione il bello è che quei soldi che si spendono per farsi curare in altre località li deve comunque tirare fuori il Molise aggravando ulteriormente il suo deficit finora la politica dei tagli praticata dai commissari è servita solo a peggiorare lo stato della sanità pubblica molisana contribuendo a mandare fuori regione i malati mantenendo aperti i reparti invece i commissari avrebbero contribuito non solo a incrementare l'EA ma anche gli incassi perché in Molise sarebbero venuti a farsi curare i pazienti delle altre regioni e in scadenza ora c'è anche il contratto del personale assunto con partita IVA sentiamo Pasquale Di Bello hanno visto le lacrime di chi se n'è andato e gli occhi felici di chi ce l'ha fatta sono gli angeli del covid come sono stati chiamati allo scoppiare della pandemia infermieri operatori sociosanitari che hanno fronteggiato l'emergenza in un momento drammatico nel quale nessuno sapeva a cosa andava incontro e con le strutture sanitarie completamente sguarnite di personale è stato allora che con l'entrata in vigore del decreto cura Italia circa 150 persone sono state reclutate attraverso il meccanismo della partita IVA l'emergenza come noto si è protratta e di proroga in proroga il personale ingaggiato attraverso una formula penalizzante che offre poche o nulle garanzie si è arrivati sino ad oggi 31 maggio 2021 finisce qui infatti dopo 14 mesi la lunga attraversata nel deserto del covid di figure che hanno garantito cura assistenza conforto a chi tra i reparti di malattie infettive e terapia intensiva si è trovato a fare i conti con un nemico mortale alla loro questione nessuno ha saputo dare una risposta nella politica che si è limitata all'unanime approvazione di una mozione che come tutte le mozioni del mozionificio regionale ha avuto una sorte tartufesca finita quindi nel sottobosco delle cose dimenticate nell'azienda sanitaria regionale più volte sollecitata che ha optato per il reclutamento del nuovo personale attraverso un avviso pubblico scelta sacrosanta ma che andava bilanciata con un congruo meccanismo di premialità a favore di chi letteralmente a mani nude si era battuto contro il covid unici ad aver preso una posizione decisa sono stati primari degli ospedali molisani che hanno chiesto la proroga dei contratti sino alla fine dell'emergenza o almeno per sei mesi al fine di affiancare il nuovo personale privo della necessaria formazione in materia di covid nulla quindi oggi gli angeli del covid se ne vanno a casa a nulla è valso il tentativo sul fronte parlamentare di trovare una soluzione una iniziativa in tal senso dell'onorevole rosa alba testamento è stata bocciata da tutti i partiti di governo sul fronte locale la politica nel tentativo di metterci una pezza che oggi appare peggio del buco a chi esse ottenuto la convocazione di un consiglio regionale monotematico peccato che sia stato fissato per il primo giugno quando agli angeli del covid saranno state già tarpate le ali ancora sanità perché con la casella del direttore sanitario vacante il Santimoteo di Termoli presenta ancora forti criticità lo sostiene il consigliere regionale Vittorio Nola sentiamo grande clamore hanno suscitato le dimissioni di Gianni Serafini dalla direzione sanitaria del Santimoteo un clamore mediatico notevole perché il dottor Serafini si è dimesso ma anche spiegato perché si è dimesso ovvero sto qui a eseguire gli ordini che mi arrivano dall'alto ma non dispongo di una autonomia operativa subito immediato è arrivato il commento di Vittorio Nola ma sentiamo il consigliere dei Cinque Stelle ebbene sì è veramente preoccupante la situazione in cui siamo perché la Rino Termoli non è un comprensorio ordinario se pensiamo che a breve e già abbiamo dei dati fortunatamente ottimi per il turismo per cui quel lungomare sarà pieno di turisti di persone di residenti quindi il fatto che abbiamo Termoli e Larino un sistema ospedaliero pubblico che non è governato perché manca proprio il direttore sanitario è una cosa che veramente testa allarme ma l'allarme qual è? non riguarda solo Termoli e Larino a questo punto ma riguarda quelle che saranno le indicazioni che darà la commissaria adesso dei grassi perché mi auguro che intervenga non solo lì ma anche su tutto il quadro del Molise ormai sono due mesi che i nuovi commissari sono al lavoro è vero che è apprezzabile la riservatezza però è anche opportuno pianificare il dimensionamento dell'organico ottimale in tutta la nostra rete pubblica queste dimissioni sono significative di qualcosa che non va che non funziona dimissioni arrivate dopo la nomina della dei grassi ma appunto è questo che mi ha fatto veramente preoccupare ed ecco perché sto facendo l'intervento pubblico a beneficio di tutti i cittadini molisani perché noi con questo meccanismo la mobilità passiva non la ridurremmo mai e siamo arrivati ormai a sei mesi del 2021 e immagino che con la pandemia che abbiamo purtroppo subito nel 2020 i livelli LEA del 2020 non sono mica migliorati rispetto al 2019 tutta questa gente che va fuori perché non trova accoglienza negli ospedali molisani va fuori sono comunque costi che ritornano indietro appunto questa è l'altra cosa che dobbiamo evitare ad oggi noi sappiamo per esempio che abbiamo a Larino soprattutto non solo la possibilità di far funzionare bene la camera iperbarica che è attrattiva per tutto il centro sud per tutto quel lungomare non solo per il nostro territorio e quindi le assunzioni vanno fatte adesso non è che possiamo attendere ancora quindi noi ci auguriamo che tutti questi provvedimenti vengano pianificati ma tutti insieme non una alla volta sporadicamente perché altrimenti non risolveremo mai la situazione nemmeno nel 2021 è stato assolto con la formula più ampia l'ex assessore regionale Massimiliano Scarabeo accusato di truffa ai danni della regione ricorderete di certo la vicenda che lo vide protagonista a lungo in quest'aula di tribunale ha detto non dovevo proprio finirci ora chiede le scuse del Movimento 5 Stelle soprattutto e del Ministro Di Maio che hanno cavalcato questa storia sentiamo dopo sette anni di odissea giudiziaria si conclude la vicenda che ha visto coinvolto l'ex consigliere assessore regionale Massimiliano Scarabeo accusato a suo tempo di truffa ai danni della regione a formulare l'accusa al tempo dei fatti fu il procuratore capo di Sernia Paolo Albano che contestò a Scarabeo l'amministrazione di fatto di una delle società dell'omonimo gruppo restituita adesso al politico piena dignità il fatto non sussiste restano però le ferite di quella vicenda io credo che in quell'aula non dovevo esserci comprendo pure insomma l'attenzione particolare della magistratura che ha fatto il suo lavoro però quelle misure adottate mi sono sembrate già dal primo giorno e oggi ribadisco un attimino eccessive nei miei riguardi adesso che cosa cambia nella vita politica di Massimiliano Scarabeo perché questo è una sentenza che conferisce una nuova spinta verso altri impegni sicuramente una maggiore serenità nell'affrontare la mia famiglia in primis i miei amici politici insomma affrontare la politica con profonda serenità quindi con la consapevolezza che posso comunque decidere in piena autonomia se continuare o meno a fare politica e come farla all'epoca dei fatti a Scarabeo vennero applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora misure assolutamente sproporzionate dice il difensore Mariano Principe quello che rimane che lascia la mare in bocca in tutta questa vicenda è stata appunto l'adozione di misure cautelari peraltro abbastanza pesanti e come noi sostenevamo dall'inizio senza alcuna giustificazione oggi è vero che i criteri per l'applicazione delle misure cautelari sono diversi rispetto a quelli della responsabilità però a mio avviso dovrebbero essere un po' più pregnanti cioè prima di applicare una misura limitativa della libertà prima di un giudizio forse bisognerebbe vagliarlo con maggiore attenzione nel corso della conferenza stampa tenuta da Scarabeo a seguito della sentenza il politico si è tolto più che qualche sasso una montagna dalle scarpe il primo riguarda l'ex presidente della regione Frattura che a botta calda ne chiese le dimissioni Scarabeo allora era assessore alle attività produttive il secondo è per il movimento 5 stelle greco sul piano locale di maio su quello nazionale cavalcarono la vicenda adesso dice Scarabeo mi aspetto le scuse da parte del ministro degli esteri il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il presidente del consiglio comunale Antonio Guglielmi hanno partecipato questa mattina alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti e agli istituti scolastici che hanno partecipato al 33esimo concorso internazionale Lions un poster per la pace edizione 2020-2021 che si è svolta al distretto militare dell'esercito organizzata e curata da Lions Club di Campobasso nelle immagini in momento della premiazione con i lavori degli alunni e a Campobasso resta ancora irrisolta la questione legata all'ex hotel Roxy di proprietà della regione c'è ora un'interpellanza del consigliere De Chirico che chiede di conoscere quali siano le intenzioni dell'ente Anna Maria Di Matteo sarà portata all'attenzione del consiglio regionale grazie ad un'interpellanza del consigliere De Cinque Stelle Fabio De Chirico la vicenda legata all'area dell'ex romagnoli di Campobasso una vicenda che quasi si perde nella notte dei tempi di cui si parla infatti da ben 16 anni tempi biblici figli della burocrazia ma soprattutto della lentezza della politica a riaccendere i riflettori sulle sorti della vasta area di proprietà della regione è stato come detto De Chirico che ha chiesto di sapere come stiano realmente le cose e quali siano le reali intenzioni della regione nel corso degli anni a più riprese infatti è stata annunciata la realizzazione di progetti faraonici che avrebbero dovuto trasformare la zona attualmente abbandonata al degrado più assoluto in un'area a servizio della città con infrastrutture verde pubblico e soprattutto con la sede unica della regione De Chirico ha ripercorso le tappe dell'ITER partendo dal 2005 quando un accordo di programma tra regione appunto il comune di Campobasso prevedeva un dettagliato programma di investimenti l'ormai famoso master plan per acquisire e realizzare immobili che avrebbero dovuto ospitare gli uffici regionali qualche anno più tardi nel 2008 fu bandito un concorso internazionale di progettazione e nel 2010 la regione acquistò l'immobile dell'Exo Terroxi che andava battuto e ricostruito per 7 milioni di euro seguirono un tortuoso iter amministrativo e ricorsi delle associazioni ambientaliste contro la prevista cementificazione ricordato De Chirico si giunse così nel 2014 ad un nuovo accordo con la revoca del vecchio concorso e la pubblicazione del concorso di idee con la individuazione e la premiazione dei primi tre studi tecnici e i rispettivi progetti un progetto che rispetto al passato riduceva la cementificazione ai costi stimati in 50 milioni di euro da allora tuttavia nulla si è mosso 5 anni più tardi però ha ricordato De Chirico Toma ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per la demolizione del Roxy ma ancora una volta il progetto ha subito l'ennesima battuta d'arresto da qui l'interrogazione dell'esponente dei 5 Stelle Toma dovrà dirci chiaramente se la regione intende davvero procedere con il progetto la collettività il diritto di conoscere le idee della politica per il futuro della città ha concluso De Chirico si intitola Il mio canto libero lo spettacolo presentato oggi a Isernia per la direzione artistica di Simone Sala e Paolo Bertolucci sentiamo i dettagli da Barbara Fino aria di ripresa voglia di ricominciare in tutti i settori è questo lo spirito soprattutto nel primo giorno di zona bianca in Molise con cui è stato presentato in conferenza stampa questa mattina nella sala Raucci del comune di Isernia lo spettacolo Il mio canto libero un format musicale alla prima edizione che avrà luogo il 19 giugno all'auditorium Unità d'Italia di Isernia un grande evento diretto artisticamente da Simone Sala e Paolo Bartolucci due icone di spessore del panorama musicale internazionale che vuole sancire il ritorno all'attività culturale con la presenza del pubblico e per lanciare un bel segnale di ripresa per i lavoratori dello spettacolo dal vivo nei teatri e nelle sale da concerto Grande grande evento all'auditorium con Silvia Mezzanotte cantante italiana di grandissimo successo e di grande curriculum Mariolina Simone conduce e insieme con me Simone Sala sul palco Paolo Bartolucci il tenore Antonella Inno soprano poi ancora ci saranno diversi momenti uno in particolare dedicato a Mango con Maura Sala che è mia sorella che è una grande voce e amica storica di Mango quindi ci racconterà qualcosa e poi ovviamente una bella band di sostegno a Silvia che farà insomma gran parte dello spettacolo con Gerry Figliola al sax Oreste sbarra la batteria Mino Berlano al basso Fabrizio Celentano alla chitarra Gianluca Grasso alle tastiere io al pianoforte e ovviamente Silvia la voce con una chicca finale che non vi racconto perché dovete venire a vederla di persona partiremo dalle melodie di fine ottocento che sanciscono l'inizio della storia della canzone fino ad arrivare ai giorni nostri attraverso tutta una serie di interventi che saranno come dire quel sunto anche artistico posto chiaramente in maniera professionistica di quello che abbiamo vissuto durante il lockdown cioè quando c'è stato il lockdown pesante le persone si sono affacciate e hanno cantato noi vogliamo rinascere cantando alla conferenza stampa in diretta Skype anche la conduttrice dell'evento la molisana Mariolina Simone speaker di Radio Capital e TV8 che si è detta emozionata e carica per questo ritorno nella sua città e per il progetto musicale in cui è stata coinvolta il sipario rosso dell'auditorium Unità d'Italia installato durante la pandemia finalmente potrà aprirsi dunque con uno spettacolo che rilancia l'intero settore culturale del capologo Pentro ripartire oggi con la notizia della Molise in zona bianca e con un evento in presenza in massima sicurezza che si svolgerà nel più importante teatro indubbiamente molisano ma probabilmente del centro sud Italia è gratificante per noi come città e quindi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa è tutto per questa edizione ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti grazie per averci seguito dalla redazione buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti